I ragazzi di Chico Blengini vogliono un altro successo dopo quello ottenuto con il Camerun e stasera ci sarà l'Australia. Allora sentiamo il servizio di Maurizio Colantoni. Andrai a Tokyo? Eh cavolo, è una figata, come direbbe io. Sarebbe bellissimo, sarebbe veramente un continuo sogno. Sai, dopo io comunque Tokyo 2020 e nell'anno dei miei 30 anni voglio andare in Giappone. Su, anche Renegand diceva, come è la vita in Giappone, lo vorrei tanto sapere, voglio tornare in Giappone. Il suo regalo alla carriera, giocare un'altra Olimpiade. Questo vuole uno dei pezzi forti della Nazionale Azzurra, il centrale, Matteo Piano. Tante emozioni per una nazionale trascinata dal tifo di tutta Bari. E' bello qua al Palaflorio perché abbiamo fatto delle amichevoli, la gente ha iniziato a partecipare. E' bello qua in Italia perché riesci a essere coinvolto, a coinvolgere. Comunque la maglia azzurra fa innamorare della pallavolo con una facilità che col club non sempre magari si riesce su così ampia scala. Quindi sapere di avere questo compito e onore ti fa scendere in campo con il sorriso. La tecnica è importante ma quanto può trascinare il cuore, il sorriso in campo di voi azzurri? Il tuo sorriso? Speriamo tanto ma il cuore è quella cosa in più. Il cuore è veramente quella cosa in più. Tutti parlano della Serbia però questa Italia è forte. È forte e in Serbia tutti parleranno magari dell'Italia. L'Italia è forte, è direzionata e con umiltà ma anche consapevolezza va a affrontare la Serbia. Una sfida nella sfida perché le ragazze azzurre, le ragazze terribili, sono riuscite a arrivare a Tokyo. Hanno trovato la qualificazione. Che farà l'Italia? L'Italia ha avuto un bel esempio perché loro sono stati un grande esempio. È stata una partita che mi ha caricato e ci ha caricato. Lo dico spesso, vedere vincere ti dà qualcosa che dici vorresti entrare in campo subito. Io ho finito la loro partita e ho detto ma perché non giochiamo subito adesso? Quindi è quell'esempio lì, è quella mossa di dire anche noi, anche io voglio essere lì, voglio vincere questo pass. Tornare in Maglia Azzurra, tornare e fare bene, essere presente in Maglia Azzurra è qualcosa che mi ci voleva. Perché ho fatto tanti anni e non mi sono mai fermato e dire che è bello. Adesso sì, sono felice di essere qua, sono contento, voglio stare qua in Maglia Azzurra e me la godo perché il mio percorso mi ha portato qua. Quindi lo meritiamo tutti insieme, lo merito io e col sorriso porto ancora a casa queste giornate qua perché sarebbe veramente lasciare andare un'opportunità questa qua di Bari. Tante emozioni dunque nelle parole di Matteo Piano.